Lei crede nella politica? Certo, credo che sia una necessità per il consorzio umano. Se non ci credessi non la farei, non darei una parte così importante della mia vita per questa forma di impegno. E cosa ritiene che sia assolutamente necessario non fare mai? Attaccare gli avversari, attaccare ancora di più gli amici di partito senza che ci sia una buona ragione, strumentalmente. L'illecito, qualsiasi cosa che non sia il perseguimento dell'interesse generale, dell'interesse per il quale ho stipulato una sorta di patto solenne con i cittadini. Non ci sono buone ragioni in questo caso, mai? Secondo me gli attacchi personali non hanno mai buone ragioni, si può attaccare politicamente, ma se qualche volta si ritiene che gli altri abbiano commesso cose non giuste, bisogna avere la certezza che questo ci sia, altrimenti c'è solo la barbarie e la giustizia sommaria. Di sbagliato se ne fa tanto, ho commesso parecchi errori, ma tutti in buona fede e comunque mai nulla di illecito. Questo sta accadendo o potrebbe accadere anche all'interno di un partito apparentemente solido e vincente come il PD? Esattamente, non è questione di partiti, lì dove ci sono gli uomini e soprattutto dove ci sono animi esacerbati che pur di raggiungere obiettivi politici non passano sui cadaveri e sull'umanità delle persone, non curanti dei danni morali, psicologici, fisici che possono arrecare agli altri. Purtroppo ne accadono tante, magari fossimo nel paradiso, è un momento assolutamente difficile nel quale la tentazione di rispondere alle difficoltà della crisi, magari aggirando l'ostacolo, aggirando le regole, si fa strada ed entrano la coscienza di tanti. Lei è convinto che le primarie facciano bene al PD? Non sempre, nel caso nostro sì perché in Puglia da sempre le abbiamo fatte, il PD ne ha fatto una questione identitaria, però tante volte nelle primarie si scatenano sentimenti bassi che poi non aiutano nelle elezioni vere e proprie il partito o la coalizione ad essere compatti, è il rischio che talvolta abbiamo corso, per il quale talvolta abbiamo pagato, ma è un rischio che comunque va corso perché è giusto che siano i cittadini a individuare il candidato. Sono convinto che le primarie facciano bene al popolo del centro-sinistra perché consentono di attivare le energie sociali, di attivare la partecipazione e di cambiare anche un gioco che altrimenti sarebbe a pannaggio solo di pochi dirigenti e quando pochi dirigenti si mettono insieme per trovare un accordo, quasi sempre questo accordo è sulla compensazione dei loro interessi, quasi mai risponde agli interessi generali. Lei ritiene che le primarie facciano bene alla forma partito che viene messa così tanto in discussione in questi ultimi anni? Le primarie sono un balcone su un nuovo scenario di forme di partecipazione, perché sostanzialmente le primarie sono un modo attraverso cui un partito affida ai cittadini il compito di individuare la classe dirigente o parte della classe dirigente, almeno le figure a piccari e questo fa del PD un partito società, il partito dei democratici, tant'è vero che in questi giorni, in questi tempi si sta orientando verso un partito coalizionale che tenga al proprio interno tutte le diverse sensibilità, dall'estrema sinistra anche alle parti più moderate. Il premio di maggioranza che Renzi intende dare al partito e non alla coalizione va in questa direzione che è un po' lo scenario che vivono gli americani da sempre. Una fase di evoluzione della forma partita? Non lo so se è un'evoluzione positiva, evoluzione sicuramente è, perciò il partito deve davanti a questo scenario intensificare la sua capacità di proporre nuove forme di partecipazione, io ho sempre proposto il partito archipelago, deve essere capace di incontrare i cittadini sugli aspetti tematici che sono quelli che interessano la gente, oggi la gente non va più nei partiti perché aderisce al partito, la gente però se viene chiamata sulla scuola, sulla sanità, sull'ambiente, va perché è interessata a quel tema, quindi un partito moderno deve assolutamente attrezzarsi come strumento di sintesi di tante realtà tematiche che vivono sul territorio e che siano capaci di essere il radar dei mondi vitali della società. Ma le primarie sono state l'atto genetico, il battesimo del PD, direi è stato l'atto costitutivo, il gesto con cui si è fondato il partito e dentro quel gesto c'è la convinzione che oggi il partito o è un partito di cittadini attivi oppure è destinato a scollarsi dalla realtà, aprire il partito a forme di partecipazione, di coinvolgimento è obbligatorio se si vuole ricucire quella frattura che separa i cittadini dalla politica, i cittadini dalle istituzioni. Che cosa direbbe adesso se fosse presente a Guglielmo Minervi? Li faremo la carezza. Che cosa direbbe adesso se fosse presente Procacci? Che non è in gioco la nostra amicizia, ho posto un problema politico, non aveva alcun rancore che mi muoveva sul piano personale nei suoi confronti, ho posto un problema, che è fortemente, eccezionalmente avvertito da parte delle persone, soprattutto da parte delle famiglie e dei figli di nessuno, oggi in un tempo di crisi in cui le opportunità sono più scarse, queste opportunità le moltiplichiamo, le mettiamo in circolazione perché siano effettivamente accessibili da tutti oppure le manteniamo sotto l'assedio di quella maledetta logica della raccomandazione che sembra regolare nella realtà il mondo.